se tu mi chiami in questo modo io fermo tutto e vengo su ed ogni cosa che sto facendo non mi interessa proprio più in cucina sul tavolo nelle vecchie tazze sono già là e la teiera tra il vapore fischia forte perché sa già che per un attimo mi siede e mi fermo con te la mia tazza tra le mani e per un po io sto con te e tu lo sai che mi stai viziando e lo prepari sempre tu e il tuo asso nella manica quando mi chiami io corro su i grandi lions londinesi a un tavolino io e te e la teiera tra il vapore fischia forte perché sa già che per un attimo mi siedo e mi sta dalla realtà la mia tazza tra le mani e per un po io sto con te e tu lo sai che mi stai viziando e lo prepari sempre tu e il tuo asso nella manica quando mi chiami io corro su la mia tazza tra le mani e per un attimo mi siedo e mi sono la mia tazza tra le mani e per un attimo mi sono la mia tazza tra le mani e per un attimo mi sono